Salve a tutti ragazzi, oggi un nuovo video per il nuovo volo con il Mavic Air, destinazione Lago di Annone, precisamente zona Pisella, quindi adesso non fermiamo a Pileppo e destinazione Lago di Annone. Adesso solpogliamo tutto e ce lo bustiamo dal lato con le riprese del Mavic Air, prepariamo tutto, c'è un po' di aria, vedete le foglie che si muovono, però non sembra molto forte, quindi speriamo non dia fastidio, quindi adesso decolliamo. Grazie per la visione 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 Grazie per la visione